Sabino, non dici mettere anche tu maledizione, non chiamano, cosa ci posso fare? Mi sa che anche per quest'anno niente miti del wrestling per David Kahn, io ho fatto il possibile. Consoliamoci con un po' di cioccolata! Ah, pensa alla tua di linea, non alla mia, io posso! Ma, cosa è questo? Sabino, leggo un secondo! Che diavolo! Il possessore di questo biglietto otterrà un match ai miti del wrestling il 18 novembre a San Giorgio a Clemano, Napoli! Sabino, ce l'abbiamo fatta! Finalmente, te Sabino a fai da David Kahn! Insieme con Sabino andranno alla conquista di Napoli ai miti del wrestling! E ricordatevi tutti quanti che questo è il momento di David Kahn! Cosa! No, che non mi sembra strano aver trovato un biglietto! Vickie! Oompa, oompa, doompa-dee-doo I've got a perfect puzzle for you ! Grazie a tutti.